buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dei permessi delle ferie dei docenti e del personale ata allora prima domanda sono un docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche vorrei sapere come posso assentarmi da scuola senza il rischio di avere il rifiuto del permesso per sette giorni non continuativi al fine di frequentare il tirocinio in diretto di un percorso abilitante i docenti con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche hanno diritto per motivi personali a tre giorni di permesso retribuito documentati con autocertificazioni tali giorni possono essere prese anche non continuativi come peraltro per gli stessi motivi personali e con le stesse modalità possono essere presi altri sei giorni ma senza retribuzione seconda domanda sono un docente con contratto a tempo determinato per supplenza breve del dirigente scolastico ho diritto ai giorni di lutto per la perdita della suocera sì ai sensi dell'articolo 35 comma 8 del contratto collettivo nazionale scuola 2019 2021 anche i supplenti brevi assunti con nomina del dirigente scolastico hanno diritto a tre giorni di lutto per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado del convivente o del soggetto componente la famiglia anagrafica ed affini di primo grado la suocera è una fine di primo grado quindi rientra in questa fattispecie terza e ultima domanda ho avuto l'incarico fino al 30 giugno 2025 come collaboratore scolastico delle gradatorie 24 mesi siccome sto facendo delle terapie temporaneamente invalidanti per grave patologia ho diritto ai permessi relativi a tale condizione certamente che ha diritto lo prevede espressamente l'articolo 35 comma 11 del contratto collettivo nazionale scuola 2019 2021 che per le gravi patologie rimanda all'articolo 17 comma 9 del vecchio contratto scuola 2006 2009 tali giornate di assenza non rientrano nel compito nel computo della malattia e sono ritribuite per intero speriamo che le risposte che abbiamo dato a queste domande possono essere utili ai nostri telespettatori seguiteci i nostri canali social facebook youtube e soprattutto nel nostro sito www punto tecnica della scuola punti perché tratteremo tematiche come queste dei permessi per docenti personaleata e tanto altro ancora arrivederci grazie a tutti 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 Grazie.